Partito! Non fate forne! Please! Caterino? Ma mi scusi ingegnere, ma se quando apre gli occhi non vede l'animale, ma vede me, è la stessa cosa. Ma lei è un animale! Ah, ecco! No, aspetta, non le facciamo! Lei è un animale invece pensato! Ma lei è un animale! Dai, pronti? Azione! Aspetta! Già! Azione! Non ci toccare! No, no, è bella una faccia! No! Vimpia le mani! Dai, c'è schiava! Cammina! Vieni, Caterina, fa un po' il porto! Oh! Si trasforma in un altro film! Io e Cio sgallo! Ti capisco! Allora... Ciac! 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 Stiamo lì! Questo è il animale questa mattina! Allora! 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 Un minuto! Allora! lifestyle! Simenzio! E' normale! Ciac! Muh Share! mics wusuh! Ma tu metti il carico però! Esatto! Che s'asbalto ma Gianna chest Bridge! Stiamo aiutando il cavolo! A machardo tutte le nomore! Ciac! Eh... favorite! Ciac! state fermi in seri se non vi riesco a ripiare azione non ti girare, ferma ferma il mobile dai questa pavola di facebook vai azione vede questo disco? si lei si mette dritto tra 30 secondi Caterina aprirà gli occhi e la prima persona che vedrà sarà lei no, ho sbagliato no, hai detto che vedrà vai stop che cazzo vede che devi dire? si, si vede l'animale ma che è una bese non c'è quello molto non c'è quello molto delicato sensibile e poi ha detto è delicato un meccanismo molto delicato il cervello è sensibile che è in un certo tempo faccio conoscenza con Caterina poco volte poco volte già venendo dovevo accapolare ma non c'è ma non c'è ma non c'è ma finita inizialmente mi serve un primo me lo posso fare quello che vuoi non c'è non c'è non c'è quello contagioso mamma mia lei non ha fatto male la voce con Caterina e lei ti cazzo ha un meccanismo molto delicato ha un meccanismo molto delicato ma non c'è quello che vuoi fare e poi dice è molto sensibile ricordi che ha un meccanismo molto delicato buon appetito allora ciak azione bellissimo ma quagliore di pis azione e si mi raccomando ricordi che ha un meccanismo molto sensibile ha un meccanismo molto delicato ha un meccanismo molto delicato a un meccanismo molto delicato ah 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 Dio Ganna un po' di aglio ma come vi alimentate lancia piombe mi buca del rio 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 a digiuno fatti serio ripiateve non ce n'ho ciac ciac aspetta ripiateve un attimo come lo fai ma è così è forte è forte pia gala le po' di sce no 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 ma te ne vada ma tu lo fai non lo fai ecco che con mangiare che schifo allora no 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 pronto pronto? dai no 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 ma tu non lo fai come pareva col prego un po' di sce lo sguardo vieni fuoco allora dai dai ancora un neutro stai distrando? ok, ciak, azione! mamma mia! sarà difficile, io ho i muscoli ormai che ho delle gambe ciak, ciak, azione ormai ce l'hai fatto 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 mannaggia ma se io non ti la ripeto e fa un minuto di mattina così mamma mia la sua o la sua Grazie a tutti.